Rientro in classe, il tempo scorre veloce, siamo già quasi a metà luglio e settembre dietro l'angolo. Molte le cose da vedere, sistemare, a cui mettere mano o comunque chiarire. Cristina Tolio, assessora all'istruzione di Vicenza, abituata ad agire, lei è stata la prima a riaprire in sicurezza nidi e materne dopo il lockdown, ha convocato i presidi delle 80 strutture di sua competenza, che le hanno fatto, diciamo così, la lista dei problemi a cui trovare una soluzione. Sicuramente il riperimento di spazi adeguati, però si stanno già organizzando, chiedendo anche disponibilità di vario tipo, che adesso noi andremo a verificare. Poi c'è tutto l'aspetto di pulizia e di igienizzazione, perché non basta aver igienizzato al mattino o alla sera, ma poi anche quando una comunità vive, tanti bambini che vanno in bagno, tanti bambini che si muovono, c'è una convivenza che va tutelata. Dalle strutture ai banchi per arrivare alla questione personale, che con le nuove esigenze bisogna reperire. Non è solo personale docente, ma anche personale ausiliario, perché se vuoi più igienizzazione, se vuoi più pulizia, devi avere più braccia e più persone, assolutamente sì. E poi c'è la questione risorse, ancora una volta sono i comuni chiamati ad intervenire da subito, anche economicamente. Il Comune di Vicenza adesso va a beneficiare di 520 mila euro, notizia di ieri, abbiamo avuto la comunicazione, e vedremo quando li avremo in disponibilità, esattamente per fare cosa. Sembrano tanti, ma sono pochi, 80 sono le scuole. Se facciamo la divisione matematica, veramente le risorse sono poche.